Benvenuti alla seconda giornata e vive i reduci della prima giornata! Bene, allora noi oggi ripartiamo e iniziamo con uno dei momenti più belli dell'evento degli U2 Days Italia, la premiazione ai membri della community perché in qualche modo noi riconosciamo, seppur simbolicamente, il lavoro che tutti noi facciamo per dare un piccolo contributo singolo che poi insieme diventa un contributo più grande a tutti i membri della community. Ringrazio ovviamente gli sponsor che hanno sostenuto l'evento, sono sempre più numerosi e questo vuol dire insomma che la portata è importante e quindi c'è un bel riscontro. Poi non so se avete visto la foto che abbiamo scattato ieri, l'ho pubblicata sui social, siamo tantissimi, eravamo, oggi siamo un po' di meno perché qualcuno secondo me sta ancora recuperando le energie dopo ieri sera. Il nostro hashtag e quindi partiamo con la premiazione ai membri della community. Chiamo il direttivo sul palco al quale faccio io un applauso perché mi sopportano parecchi mesi all'anno perché non sembrano organizzare un momento di questo tipo da remoto, non è semplice, non è semplice. Dobbiamo stare tutti al centro, all'interno dei due quadrati nervi perché altrimenti arriva una scarica elettrica. Ringrazio anche i ragazzi di Open Force perché senza di loro non sarebbe stato possibile. Giovanni, adesso tutti, 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 perché il supporto logistico è fondamentale, soprattutto per chi ha spedito il materiale e quindi va bene. Allora, c'è qualcuno con noi che si sta manifestando? Essere associazione, essere community va oltre il mero, come dire, lavoro di scrittura delle righe di codici e di condivisione degli obiettivi. Va anche nella direzione di essere amici e condividere anche pezzi della propria vita privata. Quest'anno noi purtroppo abbiamo avuto una notizia poco felice, però sempre diciamo che stia andando un po' verso la direzione giusta. Per cui il premio che voglio dare come apertura di questa edizione e a Elvis Piobbico per una pronta guarigione e chiaramente porto l'abbraccio nostro, caloroso, io invito il signor Gaspare, un applauso al papà di Elvis. Oltre alla targhetta noi abbiamo pensato di dare la maglietta con le nostre firme e di dire un abbraccio da parte nostra. Va bene? Questa qua. So che Elvis sarà il dietro insomma di avere questa notizia e soprattutto più che del premio della nostra vicinanza. Sì, abbiamo un microfono. Ci dai qualche notizia? Intanto buongiorno a tutti, sono commosso anche per questo. Ho cominciato a sentire Elvis tutti i giorni e di questo già, ne sono molto contento. Ieri sì, ieri erano i pensieri, era qui. E quindi ieri sera tipo le 7 mi ha chiamato per sentire come era andata e poi soprattutto per sentirvi più vicini. Io vi mando un saluto e un abbraccio a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Ok. Bene. Il secondo premio di questa Odoo Italia Hours. Lo diamo. A chi lo diamo? Dobbiamo scegliere ancora oppure abbiamo fatto la selezione? Ce l'abbiamo? Ok. Chiamo sul palco Paolo Gatti per il contributo che lui sta dando alla condivisione del percorso sulla localizzazione italiana. Perché si sta immolando. Ed era doveroso insomma. Questo è da parte dell'associazione Odoo Italia e continua ad essere sempre aperta e disponibile, mi raccomando. un applauso. Il prossimo premio, dopo aver dato insomma il premio Odoo Casa Madre, riteniamo doveroso darlo a Odoo Community Association. Per cui chiamo il rappresentante che abbiamo qui oggi, Simone Orsi. Non fa finta di niente. E quindi questo non te lo devi mettere sul comodino tu, lo devi dare simbolicamente a Odoo Community Association. Figuri. Vabbè. Ti prendi l'onore, l'onore e l'onore di svolverarle. Bene. E l'ultimo premio, sono solo 4 vero? Stefano Nana per il contributo che dà costantemente alla community. So che lui non è in sala però c'è un collega. Eccolo qua. Facciamo un applauso. Si tratta di un contributo fresco fresco di giornata che è subito entrato diciamo nelle corde dell'associazione. Volete dare il microfono? Quindi gli porti insomma i nostri saluti. Volevo ringraziare tutti. Allora io invito il primo relatore a microfonarsi se lo potete assistere un attimino. Ringrazio tutti gli amici del direttivo e iniziamo.